Già nelle prossime ore inizierò a prendere contatti con il Comune per rendermi conto della situazione e dalla prossima settimana sarò operativo. Così, alla nostra redazione, il commissario Vincenzo Amendola, nominato dal prefetto per gestire il Comune di Teggiano fino alla prossima tornata elettorale. Si tratterà di un commissariamento breve, rassicuramentola, perché ci sono tutte le premesse affinché i cittadini possano tornare a votare in primavera. Perché questo avvenga è necessario che il Presidente della Repubblica firmi il decreto per lo scioglimento del Consiglio Comunale entro il 24 febbraio, un passaggio che non dovrebbe andare oltre l'importante scadenza. Nel frattempo la politica locale ha iniziato ad organizzarsi per le eminenti amministrative. Per il momento il confronto è fermo sulle questioni che hanno portato alle dimissioni di sette consiglieri e quindi al commissariamento dell'ente locale. In una conferenza stampa l'ex sindaco Rocco Cimino insieme ai cinque consiglieri rimasti saldi nella maggioranza eletta nel 2014 hanno dato le loro risposte ad ognuna delle accuse mosse in questi ultimi tempi dai tre dissidenti. Cimino ha poi ironizzato sull'ex sindaco Michele Di Candia. Grazie ai dissidenti ha detto è uscito dall'etargo e poi ha aggiunto mi sorprendo del colpo di fulmine scoccato tra i consiglieri di minoranza e gli ex di maggioranza. Per il sindaco sfiduciato i due gruppi flertavano da tempo. Di Candia dal canto suo esprime rammarico per quanto accaduto se dopo sei mesi di crisi Cimino avesse lasciato la guida della città non saremmo stati costretti a dimetterci. Spero, aggiunge, che i cittadini apprezzino questo nostro gesto. Noi lo abbiamo ritenuto necessario per dare la possibilità all'elettorato di eleggere una nuova compagine capace di rimettere in moto il paese. E' ancora presto a stabilire chi questa volta sarà candidato a sindaco di Teggiano. Rocco Cimino sembra pronto alla ricandidatura. Minoranze uscente e dissidenti insieme in un'unica lista? E' l'interrogativo che si pongono in molti.